Ma se devo cambiare il computer, oddio è un casino, ho installato un sacco di cose, ho un sacco di foto, un sacco di video, un sacco di programmi, come faccio è un casino. Mentre se noi avessimo ipoteticamente tutto in cloud, cambiare il computer o avere un computer piuttosto che un altro per assurdo non ci cambierebbe nulla. Per il semplice motivo che la grande differenza di avere i dati in cloud è quella di non avere le cose sul computer, quindi sostanzialmente non si utilizza il computer piuttosto che il tablet, piuttosto che il computer fisso, il notebook, anche come memoria, quindi come repository delle nostre foto, dei nostri video e quant'altro. Ma tutto ciò rimane appunto nei data center e i dispositivi non servono nient'altro come interfaccia utente per poterti poi collegare e vedere appunto tutti i tuoi contenuti, i tuoi dati, i tuoi pdf, i tuoi word, quello che serve direttamente in streaming in cloud. Lo stesso vale anche per esempio per i cellulari, perché nel momento in cui noi abbiamo le foto salvate locali, per esempio io utilizzo anche il tablet e ho dei pdf salvati in locale. Eventualmente mi mandano un pdf e la mail e la leggo da un altro portatile piuttosto che la leggo dall'altro portatile. Alla fine io avrei praticamente quattro copie della stessa cosa o comunque similare che vengono ridondate, non mi ricordo magari quale è l'ultima versione, quindi questo esempio potrebbe anche calzare per quanto riguarda, come dicevo prima, il cambio di una postazione, il cambio di un computer. Perché effettivamente se vogliamo andare a vedere a livello pratico cosa succede quando andiamo a sostituire un computer, se abbiamo tutto localmente dobbiamo preoccuparci di attaccare un disco esterno, eventualmente fare il travaso dei dati da un computer a un altro e dopo installare anche dei programmi come possono essere il pacchetto office piuttosto che l'antivirus, piuttosto che programmi di elaborazione video o foto e quant'altro e andare a riconfigurare tutto eccetera eccetera eccetera. Se invece noi avessimo tutto appoggiato in cloud, la cosa bella di questo servizio è che per cambiare da un computer all'altro e solo a ripristinare i miei programmi, li andrei a configurare e poi una volta che ho riconfigurato il mio percorso verso il cloud, sostanzialmente io mi ritroverei gli stessi dati senza dover fare travasi pesanti, cose pesanti e capire se effettivamente mi si è girato tutto, impiegarci ore e ore. Quindi per assurdo in qualche minuto, in un quarto d'ora, in 20 minuti al massimo io ho già switchato da un dispositivo ad un altro o se per esempio mi trovo da qualche parte dove non ho a disposizione il mio computer, io mi collego sulla mia interfaccia in cloud e per assurdo ho l'ultimo documento del quale ho fatto la modifica questa mattina e se questo pomeriggio sono dall'altra parte del mondo e voglio vedere lo stesso documento mi collego in cloud e lo vedo. Grazie